In Regione Lombardia è stato discusso oggi il PRIA, il Piano Regionale per gli Interventi per la Qualità dell'Area. Sentiamo allora di che cosa si tratta direttamente in questa intervista all'assessore all'ambiente di Regione Lombardia, Claudia Terzi. Assessore Terzi, oggi si è parlato di PRIA, di cosa si tratta? Il PRIA è il Piano Regionale per gli Interventi per la Qualità dell'Area. Sostanzialmente abbiamo messo in un documento piuttosto corposo tutto quello che vuole fare Regione Lombardia per arrivare da qua al 2018-2020 ad avere un'aria più pulita, più respirabile, quindi un miglior ambiente in cui far vivere i cittadini lombardi. Dunque è un documento che funziona soprattutto per quanto riguarda l'inverno? Un documento che, sì, le azioni sono 91 e sono numerose, sono diversamente articolate, alcune strutturali, quindi gli interventi anche per esempio sull'organizzazione dei trasporti, alcune invece che attengono a quel periodo critico e a quell'area altrettanto critica della Regione Lombardia che è quella del periodo invernale e delle aree metropolitane, insomma sostanzialmente di quelle che sono le zone più antropizzate che appunto durante l'inverno hanno a che fare con i problemi di PM10, di azoto, eccetera, eccetera, senza dubbio quelle. Quali sono allora le difficoltà dell'area lombarda? Beh, le difficoltà dell'area lombarda sono legate alla struttura dell'area lombarda e in generale della struttura dell'area padana. Il nostro territorio che è bellissimo fa in modo che appunto tutto l'inquinamento che arriva anche prodotto dalle altre regioni, quindi da altre aree, qui si fermi. Quindi dobbiamo fare degli sforzi pazzeschi e decisamente più importanti rispetto a quelle di altre regioni o di altri stati per far andare via questo inquinamento, per fare in modo che non si fermi, perché quando si ferma provoca ovviamente dei danni anche alla salute. E per fare questo bisogna appunto per esempio vietare la circolazione di alcuni mezzi, vietare l'utilizzo indiscriminato ma sbagliato soprattutto della legna come mezzo di riscaldamento e tutta un'altra serie di azioni che appunto abbiamo messo nel Pria. Dunque oggi tavola rotonda in cui si è parlato insieme a tutte le istituzioni lombarde delle varie problematiche. Quali sono i risultati? De cosa è venuto fuori da questo tavolo rotonda? Che soprattutto quei comuni che sono direttamente interessati dal problema PM10, dal problema aria, chiedono già da adesso quelle azioni che noi abbiamo previsto a partire dal 2016, quindi una su tutte l'estensione del divieto di circolazione degli Euro 3. Ricordiamoci sempre che la circolazione dei diesel e il bruciare in maniera non corretta la legna, utilizzarla come mezzo di riscaldamento, come fonte di energia per il riscaldamento, sono i principali elementi di inquinamento dell'aria lombarda. Non vuol dire che dobbiamo andare tutti a piedi o non bruciare più la legna, vuol dire che dobbiamo farla in maniera diversa e in maniera più corretta. Quindi per esempio dal 2016 in alcune zone della Lombardia non si potrà più circolare con l'Euro 3 diesel e da qua ai prossimi anni regolamenteremo quello che è invece il modo di utilizzare i cammini per il riscaldamento. Quindi potete continuare ad avere il camminetto aperto, che è quello che vi fa compagnia, potete continuare a usare la stufa della nonna per fare da mangiare, quello senza dubbio, ma dobbiamo iniziare a pensare di utilizzare dei cammini ad alta efficienza energetica che quindi non producano PM10, cioè le polveri sottili, cioè quelle che fanno venire l'asma ai bambini per esempio. Il Regione Lombardia sta discutendo sia con i comuni, sia con le province, ma anche con lo Stato. Allora quali sono i gradi di ascolto? Beh i gradi di ascolto diciamo che abbiamo una voce abbastanza forte per farci sentire, poi talvolta ci ascoltano ma non reagiscono immediatamente, ma stiamo col fiato sul collo al Ministero. Entro ottobre il Presidente Maroni si è dato questa scadenza che ovviamente condivido e che cercheremo, faremo di tutto per rispettare, vorremmo sottoscrivere l'accordo di programma per il bacino padano, cioè per una gestione macro regionale di quello che è il problema aria con il supporto ovviamente dello Stato. Ci sono alcune azioni che abbiamo chiesto, che non possono fare né la Regione Lombardia né altre regioni, ma deve fare necessariamente il Governo. Abbiamo poi chiesto che finalmente ci eroghi i 10 milioni di euro che ci ha promesso dal 2006, ci ha ribadito nel 2012 ma che ancora non sono arrivati. Questo è quello che stiamo facendo, stiamo correndo ma ci crediamo molto.